La Regione Abruzzo, in collaborazione con l'Agenzia Enea, ha presentato a pescare il nuovo sistema informativo APE Abruzzo, che permette di trasmettere gli attestati di prestazione energetica in formato digitale e in tempo reale inviati alla Banca Nazionale. Il nuovo sistema informativo entrerà in funzione il 6 maggio prossimo. I certificatori dovranno registrarsi prima di poter trasmettere gli attestati. Con l'attivazione della nuova piattaforma informatica dimostriamo che la Regione Abruzzo è all'avanguardia rispetto ai temi ambientali, esordisce l'assessore all'energia Nicola Campitelli. Una vera transizione ecologica passa anche attraverso lo snellimento delle procedure amministrative, ha aggiunto l'assessore. L'attestato di prestazione energetica fornisce informazioni sulla classe energetica dell'immobile e sulle caratteristiche dei relativi impianti, indicando anche gli interventi migliorativi che possono ottimizzarne la prestazione energetica.